Ciao a tutti, sono Shio Domi, in compagnia di due amici, uno lo conoscete già, posso inquadrarti no? Rodolfo, in compagnia di una sua amica, ti posso inquadrare? E guarda qua, ciao! Come va? Parla bene l'italiano, è abbastanza bene, se la cava bene, sono io che dovrei imparare il giapponese comunque. Sì, ok, sono arrivate le vostre pietanze, pollo fritto, chidini, poi questo brodino con carne, tofu, brodino tipo ramen, con un po' di insalatina, di zerbulline, guardate, è ancora che cuoce, si vede la fiamma. Così rimane bello caldo, siamo a Shio Domi, in una via abbastanza ricca di ristoranti, abbiamo scelto questo, sto mangiando lo schiedino, faccio vedere un po' il locale. Questo è il locale, molto bello, molto tipico. E' tutto buono, è tutto buono. Il prossimo schiedino di maiale è abbastanza rovente. Però buono, eh. Mmm, è vero. Mmm, è vero. L'hai rotto? Vabbè, dai. Il cotone è pasta, se bastiamo. E' comunque buono. Poi abbiamo preso da bere la Coca-Cola, io ho preso la Coca-Cola al terrimone, ecco. Comunque poi questa bevanda per lei, che non so qual sia. Comunque il posto è molto carino, molto tipico del Giappone. Adesso finisco la mia cena, tra cui ho anche il pollo fritto. Qua si mettono le panchette usate. Posso prenderlo? Posso? Ah, è mio. Ah, è vero. Il pollo fritto è mio. Vabbè, ma prendete se vuole. C'è un pollo fritto. Ecco la faccia. C'è un pollo fritto. C'è un pollo fritto. Ah, bene. Il problema del Giappone, sai qual è? Che fengono più stretti. Quanti bei tutti gli stadi stadi. Tutti i piattini. Vabbè, qual è il tanto ha impieto, vesto e il naita? Ma ci sai savoir? Ah, qua è il kailuk. Ah, qual è il kailuk. E', se stai versando, si stai versando. Ah, quando proviamo ad assaggiare? Ah, sono riparato. devo cambiare la mano perchè sto usando le bacchette che avevamo sbagliato non sono capace è sicuramente molto buono un nemico parla giapponese bene come? parli un po' parli bene cosa parli stai anche lei parla bene l'italiano parla bene il giapponese e parla bene l'italiano parla abbastanza bene l'italiano parla po' di italiana no parli bene il tibet l'italiano pensa Sì, grazie, la gente dopo che ha finito di mangiare, mi fa mangiare molto dopo il lavoro. Ok, tutto chiaro, vi saluto, tutto giusto, la cena, tutto ottimo qui a ShioDomano e a TocchioDomano e ci vediamo poi in giro per Tokyo nel prossimo video, domani a Bala, domani a Bala, sì, domani a Bala, ciao, alla prossima, ciao, salutate anche voi, a fare, ciao.